buongiorno david bargiacchi è un giovane di pistoia 1985 e esordisce con questo libro edito da betti editrice di siena quasi un milione di passi è il resoconto di un pellegrinaggio a santiago di compostela termine del quale si fece fare questa fotografia conservazione all'interno del libro è la sua raccolta di esordio e lascio parlare direttamente i suoi versi che sono veramente a mio giudizio notevoli sull'alto del perdon il silenzio ha creato lo scenario inveterato quasi millenario che porta il pellegrino alla prima tappa di non ritorno intorno si distende la vallata il cammino che va rada bianca e rosa polverosa si allunga come una linea di gesso nel campo dei possibili tra le erbe e i fiori immobili intorno a nessun suono solo la luce varia nel luogo in cui si conferma la scelta un cambio dell'indulgenza plenaria specifico che questo pellegrinaggio non è stato fatto con particolari fini di devozione ma di esplorazione di esplorazione del mondo e delle prospettive potenziali di una metafisica in cui l'autore non ha un'eccessiva fiducia i tendini infiammati i piedi che si aprono scaglie di rosa vivo sangue incatramato che si fonda i tessuti cementato da polvere sottile da strapparsi via a fine giornata tra la doccia e il conto per domani ogni passo ha un costo materiale sempre deducibile dalla formula c uguale pf meno r fratto d passi fatti meno i rimanenti tutto fratto dolore vero comune denominatore eccovi la formula nella sua specifica icona e chiudo con forse il caso regola il tutto verso un finale privo di senso nel teatro dell'assurdo galattico esiste un dio ci guarda dal suo attico immenso atarattico propenso a far cessare la farsa ex abrupto david bargiacchi quasi un milione di passi edito da betti di siena grazie alla prossima puntata